Cambiano i marchi, le persone, restano. Centro spedizioni, ballaggi, logistica, in via 25 luglio a Cava dei Tirreni. L'emissione di un bollettino giornaliero in cui vengono indicati i dati dei nuovi positivi presenti in città, del totale dei positivi e dei ricoveri ospedalieri, dei tamponi eseguiti e il numero dei guariti, nonché il numero di vaccinazioni effettuate con le relative fasce di età. È quanto chiesto dal consigliere comunale di Siamo Cavesi, Raffaele Giordano, in una nota indirizzata al sindaco Vincenzo Servalli e all'assessore per la tutela della salute, Armando Lamberti. Secondo Giordano, in questi mesi il comune si è limitato a comunicare i dati in maniera saltuaria, a differenza di quanto chiedono i cittadini, che invece auspicano una corretta e trasparente informazione. Giordano, inoltre, ha sottolineato la mancanza di un aspetto grafico dei dati che possa semplificarne la comprensione. La fruibilità e la chiarezza delle informazioni sono fattori importanti, tanto quanto le informazioni stesse, ha tonato il consigliere di Siamo Cavesi. Si tratta di un atto dovuto, soprattutto in un momento in cui si chiedono sacrifici e limitazioni alla nostra vita quotidiana. Intanto, il circolo di fondazione comunista Francesco Gagliardi di Cava dei Tirreni ha inviato una lettera al direttore sanitario del distretto 63 a proposito della campagna di vaccinazione in corso nella città metelliana, invocando un cambio di passo a cominciare dalla nomina di un nuovo direttore sanitario a tempo pieno.